Allora, io mi presento ragazzi, appena sono presentati, sono a Sardegna, c'è un'altra domanda di Rana, il meglio senza il microfono, c'è un'altra domanda di Rana, quattro anni fa, tre anni fa più o meno, per uno scopo ben preciso, che cioè per portare avanti un progetto primariamente monetario finanziario e poi anche politico. E quindi ecco, adesso vi romperò la scatola per una mezz'ora, spero, senza farvi troppo male, e ci vuole, la volete la soluzione o non la volete? Noi abbiamo una soluzione, dateci il tempo per rispondervi, dare una mano, se volete io riesco a qui adesso, me ne vado, non è che un problema. Allora, cominciamo dall'inizio, la moneta, al contrario che quello l'ha detto l'amico prima che ho fatto, l'acqua di storia della moneta, è partita come riconoscimento del valore dell'altro, perché se voi vi ricordate anche solo 50 anni fa qualcuno che è più anziano, quando arrivava una persona, un viandante, la si accoglieva e gli si cedeva una parte del proprio desco giornaliero e non si chiedeva nulla in cambio, semplicemente era un dono verso lo straniero che arrivava per rifacillarlo. Il denaro aveva quella funzione, non entro a spiegare, ho un libro che è gratuitamente scaricabile su internet con scritto 4-5 anni fa, chi vuole se lo va a leggere, è spiegato questo. Allora, il problema quale? è che tutte, vi faccio un esempio, all'inizio del Novecento un operaio della Fiat che già esisteva, per fare una macchina ci metteva circa 100 giorni, oggi un operaio produce invece circa 100 macchine al giorno, cioè significa che un operaio produce 10.000 volte quello che produceva 100 anni fa. 100 anni fa, ma senza dare 100 anni fa, parliamo del 1960 che la gente ancora se lo ricorda bene, per comprarsi una Fiat 600 costava 600.000 lire, un operario prendeva 120.000 lire, quindi con 5 mesi di stipendio si comprava una Fiat utilitaria, oggi per comprare una Fiat 500 servono 13.000 euro, quanti anni ci vogliono per comprare una Fiat 500? Più di un anno. Questo sta a dire, con tutti i debiti, diciamo, le debiti e considerazioni del fatto e di tutto il contesto che è molto più complesso di come sto schematizzando io, comunque la dice lunga sulla capacità di acquisto dello stipendio medio dell'operario. Questo che sta a significare a sua volta? Che tutto quel guadagno che prima veniva presa da quella massa enorme di operai, perché la Fiat in quell'epoca nel 1960 aveva circa 200.000 operai, oggi aveva circa 100.000, quindi questo sta a dire che quella quantità enorme di denaro che la Fiat pagava quei 200.000 operai che oggi ce n'ha 80.000, anzi forse anche un po' di meno in Italia, tutta quella massa di denaro va da qualche altra parte, ve lo dico io, va in tasca dei signori Elkan, i signori Elkan che fanno parte sempre di quella particolare mia, che guarda caso, gli agnelli sono morti tutti, ma non perché l'hanno fatti fuori per Pasqua, perché non solo per l'un motivo, per l'altro morti tutti. Giorgio lo fa, ma guarda, guarda. Allora, che cosa sta a significare tutto questo discorso? Significa che gradualmente nel corso dei, mentre fra l'inizio dell'illusione industriale del 1850 fino ad oggi, fino a circa 50 anni fa, cioè per circa 100 anni, le masse operarie attraverso le lotte sindacali, vere, incazzate, i blotti stradali, i burocoltaggi e il cento e quant'altro, cose che ho fatto anche io in qualche mondo, era riuscita a raffinare quello che a sua volta aveva raffinato nei secoli precedenti il nobile, perché non ci scordiamo mai che chi c'aveva soldi era nobile o di ganascendenza o perché si comprava il titolo, quindi non è che c'era molto da differenziare. Quindi il discorso è che i sindacati, gli operai, i partiti politici dell'epoca, parliamo per esempio del partito Polissa che quando era davvero ancora un partito proletario e quant'altro, effettivamente avevano fatto una funzione efficace di drenaggio e di riparazione della cittadinanza, diciamo distribuzione più o meno equitaria del denaro e quindi anche della capacità di essere cittadini, perché in una società inventata nel corso dei secoli sulla struttura monetaria è chiaro che se c'hai soldi sei un cittadino, se non c'hai soldi sei un cazzone e quindi non puoi oggi ad esempio curarti, non puoi andare a mangiare, non puoi, cioè sei un cittadino che sei riazieta. E allora questo che cosa sta a significare? Sempre quel progetto che ho detto io, cioè c'è una funzione, un'azione, una strategia di riaggregazione, riapropriazione di tutto il potere che dovrebbe essere eseguito al popolo in apice, in testa, a qualche testa di calcio che si ritiene più importante degli altri. La soluzione è quella di fare in modo, perché questa, diciamo, poi, come è stata messa in piedi questa strategia? Attraverso la conquista degli stati dall'interno. Noi, io e Giorgio e altri abbiamo fatto una denuncia, c'è un altro tradimento, un mese e mezzo fa circa, perché la gente non sa che lo Stato si regge sulla funzione di 1200 direttori generali di decimo livello. Questi 1200 direttori generali di decimo livello sono assunti tramite pubblico concorso e titoli ovviamente. Perché? Perché lo Stato dovrebbe essere quella parte migliore della città di finanza e quindi cava fra i migliori quelli che sono i brani, no? E quello dovrebbe essere la funzione dello Stato. Quindi si sceglie i direttori di decimo livello e i direttori generali attraverso questo sistema. che cosa è successo? Che fra il 92 e il 95 i nostri cari giocatori dell'Occulto, che sono sempre gli stessi, hanno deciso che di quei 1200 che rompevano le palle e che non avrebbero fatto passare le porcherie che poi sono state fatte passate in questi molti anni, quindi sono loro che firmano poi e rispondono personalmente, che cosa hanno fatto? Di questi 1200, 800 li hanno dei seguiti, quelli che romperono più le palle, per i processi come funzioni e fanno tutt'altro, magari un sciacquo a bottiglie, mantenendo pure il decimo livello e quindi lo si vede e è garantito.